La probabilità, un argomento che quasi sempre è presente nella seconda prova del liceo scientifico ed è presente anche in moltissimi test d'ingresso per l'università. Sono Simone, siamo Sud Rocket e andiamo a vedere la definizione di base. Quindi, probabilità classica è definita come appunto il numero di casi favorevoli fratto il numero di casi possibili. Andiamo a vedere subito un esempio di applicazione di questa definizione. Abbiamo un dato da sei facce e vogliamo calcolare la probabilità che ad esempio esca un numero pari. Quindi, cosa facciamo? Andiamo a contare il numero di casi favorevoli, ovvero i casi favorevoli, ovvero che esca un numero pari, sono effettivamente 2, 4 e 6. I numeri compresi tra 1 e 6 pari sono 2, 4 e 6 e quindi abbiamo in totale 3 numeri pari, quindi 3 casi favorevoli, su un totale di 6 casi possibili, perché abbiamo 6 possibili esiti per il dato a sei facce. E quindi la probabilità sarà appunto il numero di casi favorevoli fratto il numero di casi possibili, 3 fratto 6, che fa proprio un mezzo.